Pronto a tesserarti? BASTA UNGIR! Volessi sapere se ci sono altri metodi per tesserarsi? O se ci sono altre cose da sapere? Beh, in fondo qualcosa da dire c'è. Se non hai un computer, uno smartphone, un tablet o qualsiasi altro modo per accedere alle leggi e internet non devi preoccuparti, potrai tranquillamente tesserarti in un attorio. Come? Beh, una volta nel nostro stabile ti basterà cercando se c'è il doto o un membro dello staff, pronto ai tanti. Probabilmente verrai re-indirizzato alla direzione dell'autorio dove a seguire responsabile e competente potrai essere in particolare sull'assistenza. Dovrai comunque utilizzarci il trattamento dei tuoi dati nel nostro portale web ed una volta pagato completerai l'iscrizione. Se hai dei dubbi sul sistema dei testamenti non esitare a guardare gli altri video relativi presenti sul nostro canale di tutto e hai visto che ci sei? Perché no? Metti un like! Metti un amico! Grazie a tutti.